E comunque fino a domani probabilmente il metro è così e quindi non lo so ci vediamo domani Comunque questo è un aggiornamento del fatto che sta piovendo di nuovo e oggi aveva messo sole tutto il giorno Ma va bene la pioggia e l'acqua fa bene alla natura a me non mi pare il vero non devo annaffiare Non so mi sto abituando a questa situazione le piante si ammaleranno perderò i pomodori Lo vedi questa questa simpaticona qui questa è peronospora c'è qui c'è qui e anche qui è ovunque È ovunque ovunque nelle piante forse qualcuna si salva ma porco cane quest'anno è un disastro Anche perché se continua così come sta facendo in questo momento che sta ricominciando a piovere Probabilmente questa zona che è proprio maledetta dall'umidità Madonna io ve lo fa un trattamento stasera Mi chiamo joele per gli amici jo sono un giovane agricoltore con le idee chiare Più o meno la mia più grande passione è il cibo e voglio cambiare il mondo portando in tavola il migliore che tu abbia mai mangiato Io sono joele e questo è il mio viaggio agricolo Vorrei provare a mettere ordine a questo video che sto cercando di girare da una settimana Nel senso che tutte queste cose avvengono da una settimana e ho deciso di dargli un senso ed una storia ma è difficile Quindi adesso vi spiego che cosa effettivamente sta accadendo La settimana scorso ho pubblicato il video nel quale vi facevo vedere come io trattavo le mie piante Cercando di sostituire il più possibile prodotti fitofarmaci come per esempio il rame Pur essendo un prodotto consentito nel biologico dimostra comunque una possibilità di accumulo nel terreno per un utilizzo prolungato Prodotti come il rame sono abbastanza sostituibili da tanti diversi prodotti naturali Che però hanno un'efficacia un po' meno testata e un po' meno sicura Sì nel biologico ma soprattutto nel casalingo diciamo sono molto validi comunque Quest'anno che cosa è successo? Che proprio dopo che io ho pubblicato quel video Nella mia coltivazione di pomodoro è iniziato a diventare veramente molto presente la peronospora Questo probabilmente perché il clima in questi giorni è veramente duro Mette a dura prova le nostre piante con tante piogge susseguite da mezze giornate di sole Per poi di nuovo fare pioggia per poi di nuovo fare sole Non è un clima umido e basta ma è questo alternarsi di caldo, umido, bagnato, pioggia anche molto intense Per poi fare il sole dopo un'ora anche molto forte Questo crea le condizioni il più favorevoli possibili allo sviluppo di malattie fungine Tant'è che la peronospora è una di quelle peggiori che potreste trovare nel vostro orto Una volta che attacca le vostre piante potrebbe essere molto difficile debellarla O comunque andare a creare delle condizioni molto sfavorevoli nel quale farla far cessare il suo sviluppo Voglio parlarvi di come io ho preso questo punto Come ho deciso di combattere la peronospora So che è una cosa abbastanza comune soprattutto in quest'anno, in questo periodo Io ho molti amici che si trovano più o meno nella mia stessa situazione E che hanno deciso di prendere tante diverse decisioni Tra cui abbandonare tutto perché fa schifo questa situazione Gli approcci possibili sono due Utilizzare prodotti fitofarmaci molto potenti Che vengono tecnicamente chiamati sistemici Ovvero che entrano proprio nel sistema linfatico della pianta Penetrando i tessuti, entrando dentro, agendo, facendo una bella disinfestazione totale Però hanno anche delle controindicazioni belle forti Come per esempio avere periodi di carenza molto molto lunghi Non avere una certa selettività Ma tendono ad uccidere a caso tutto quello che c'è Quindi sì, debellano dalla nostra peronospora Ma uccidono tutta la vita che c'è dintorno alle piante È una sorta di chemio della pianta Oppure andare ad agire in tanti diversi modi Sperando poi per il meglio Consci del fatto che parliamo di piante di pomodoro E non della nostra vita E quindi non muore nessuno se parte delle piante muoiono Ovviamente è vero che andremo a perdere una parte del raccolto Potrebbe essere anche un quantitativo ingente Potrebbe creare anche dei problemi non indifferenti a livello economico Per il nostro raccolto Metterci in brutti guai Però tutte queste decisioni dipendono anche dalla vostra situazione Per quanto mi riguarda la mia situazione è quella di fare il possibile per evitare questi prodotti sistemici E andare ad utilizzare anche prodotti un pochino più forti Magari a livello antifungino per la mattia che sto riscontrando io E vedere che succede Non lo so che succederà Speriamo bene Detto questo mi piacerebbe farvi vedere con mano nella pratica Come si riconosce la peronospora Nel mentre vi faccio vedere anche quanto grave è la situazione È un po' ovunque Si vede bene già questa per esempio Anche se sono piccole macchie Qua abbiamo una visione un po' più conclamata Anche qua Come vedete la peronospora agisce un po' a caso E crea queste macchie di secco Ma a colore abbastanza scuro Non ingiallisce troppo la foglia Qua intorno un po' ingiallisce perché comunque i tessuti soffrono Ma tende generalmente Ecco qua si vede molto molto bene Tende generalmente a creare queste macchie di dissecamento Sparse un po' a caso E dà questo effetto leggermente unticcio Come se fosse un po' tendente al marrone scuro Il colore del dissecamento Si vede bene anche qua Per riconoscere bene poi Se si volta la pagina della foglia Si vede che c'è tutto un alone leggermente bianco intorno alla foglia Perché appunto si parla di una muffa E quindi è proprio il colore biancastro della muffa Al di sotto della pagina Al di sopra si vede questo dissecamento Qua come vedete c'è un'altra foglia Più o meno nelle stesse condizioni Il problema è che poi coglie tutto il ramo Nella fase quella un po' più potente Tende ad attaccare anche lo stelo della nostra pianta Ho alcune piante nelle quali si sono create delle macchie sullo stelo Adesso vi faccio vedere Ma poi nella fase ancora peggiore Che va veramente a recare molti danni Proprio non soltanto alla pianta ma anche al raccolto Attacca i frutti Lì siamo nella fase finale diciamo Dove praticamente vi tocca buttare via i frutti Per ora non riscontro niente di tutto ciò E in caso si dovessero trovare questo genere di frutti Vi consiglio di toglierli subito E buttarli via Possibilmente bruciare tutto Così da eliminare le tracce di vita della peronospora Quaggiù come vedete Qui è una situazione abbastanza grave Quando la pianta si presenta in questo modo In cui buona parte delle foglie al di sotto Sono malate E poi la cosa grave è che Quando è così e ci sono delle piante intorno Le piante si attaccano la malattia Una con l'altra E qua è tutto un disastro di questo genere Questo è ciò di cui vi parlavo prima E cioè quando la malattia La muffa della peronospora Attacca lo stelo della nostra pianta Si creano queste macchie Che sono abbastanza gravine E il problema avviene soprattutto Quando attacca lo stelo principale Come in questo caso Avevo già trovata su delle femminelle Le femminelle in quel caso si vanno a togliere E ok Ma qua se è presente sullo stelo della pianta principale È un po' un problema Qua è tutto un disastro di questo genere Tutte piante malatissime Si vede bene che queste macchie si riconoscono Perché non partono dai bordi Ma parte proprio dal centro della foglia Adesso io avrei potuto tralasciare Cercare di trovare delle soluzioni Anche abbastanza brutali Magari utilizzando prodotti sistemici Risolvendo il tutto E mettendomi in una situazione Diciamo di vantaggio per me Questa coltivazione Tant'è che ho deciso la strada della verità Che anche se a volte è un po' più difficile Colgo questa occasione per vedere insieme Per correre insieme questo viaggio Attraverso la battaglia Contro questa peronospora E vedere se riusciamo effettivamente A salvare questa coltivazione Oltre a tutta questa azione di cura Delle piante già ammalate nel mio orto Sto nel mentre cercando di sostituire Molte di queste piante Con una coltivazione nuova Anche se un pochino più in piccolo Perlomeno con le varietà principali Che sono quelle che vanno di più Cercare di riportarle da un'altra parte E tenerle isolate Lontane E anche al coperto Ma vediamo meglio adesso Come ormai saprete tutti Sto coltivando anche dentro A questi due tunnel Che ho nel mio orto In quello di là ci sono gli zucchini In questo di qua C'erano diverse altre coltivazioni Non era assolutamente in programma Di mettere qua dei pomodori Ma ho deciso di piantare Inizialmente queste due prode di pomodori E poi vedere se convertire un po' tutto Il tunnel a pomodori Per cercare di tenerli qua dentro In un ambiente protetto dalla pioggia Sperando che se dovesse continuare questo tempo Un po' così truffaldino Queste siano bene o male a riparo Questa soluzione potrebbe essere marginale Perché comunque l'umidità Che si crea nell'aria dopo una pioggia Non avviene soltanto nelle zone toccate dalla pioggia Ma appunto avviene nell'aria Quindi l'aria umida poi tende a circolare comunque E quindi l'umidità che c'è in un terreno È presente di là dove c'è la coltivazione In pieno campo aperto Ma è presente anche qua Dentro il tunnel Perché l'aria è la stessa che circola Ovviamente si è un po' più protetti Nel senso che le foglie delle piante Vengono bagnate meno Quindi speriamo che questo Possa essere un vantaggio Come vedete da qua Dove ho fatto già la prima proda di pomodori Ho deciso in questa qua Di mettere tutti i datterini Che sono quelli che vanno un po' di più Tra i pomodori piccoli Sono anche quelli più buoni E ho deciso di coltivarli con la pacciamatura Già che c'ero faccio questo test Con questa pacciamatura In telo di nylon bianco Che tende a riflettere molto la luce E quindi darà un'illuminazione più completa Alla pianta Anche ai palchi di foglie più in basso E ai frutti che si trovano più in basso In più poiché siamo dentro a una serra Il terreno e il telo tenderebbe a scaldare molto Ma un telo bianco Riflette molta luce E quindi scalda molto meno Ovviamente Sta cosa sarà parziale Non lo so Usare della plastica in agricoltura è brutto Può essere Io sto facendo delle prove Sto valutando tutte le opzioni Che mi si presentano davanti Soprattutto perché Sono giunta alla conclusione Che dei compromessi Soprattutto quando si è da soli A fare un'attività agricola Vanno raggiunti Perché altrimenti si sbrocca Se vi interessa Io ve lo lascio qua sotto in descrizione Secondo me Vista la sua qualità Non troppo scadente Ecco come sono di solito I telli così in plastica Può anche essere riutilizzato L'anno seguente Sicuramente arriveranno molto dopo Questi che ho piantato adesso Suppongo anche che Il progredire della malattia Della peronospora Non sia tutta in un colpo Ma probabilmente lentamente Andrà ad ammalare e a peggiorare In più se facciamo dei trattamenti Andremo anche a rallentare il suo sviluppo Quindi quando quelli fuori Saranno proprio nelle condizioni peggiori del mondo Speriamo che questi abbiano già iniziato a fruttificare Vediamo quindi quali sono gli eventuali trattamenti E i prodotti che ho deciso di utilizzare Per andare a morigerare L'effetto della malattia della peronospora Io ho deciso in questo caso Di affrontarla così Fare un passettino indietro Mettere un attimo da parte la zeolite Per quanto siano ottimi prodotti Ma la zeolite non ha un'azione Proprio antifungina in sé per sé Ha più una funzione preventiva Funzione in un modo fisico Che va a prevenire la malattia Sulle nostre piante Io volevo qualcosa che Avendo io la malattia conclamata Mi andasse a un po' a cercare di attaccarla E combatterla Quindi ho deciso di ritornare un attimo al rame Che so che non è un'ottima scelta Magari perché tende ad accumularsi Un pochino più nel terreno Ovviamente non va utilizzato fuori dalle dosi E quindi ci sono dei limiti Mi sembra che siano 4 kg per ettaro all'anno Per non sforare certi dosaggi limite Credo però che questa soluzione La andrò a utilizzare soprattutto adesso Nella quale i frutti sono ancora in fase di sviluppo E non sono ancora in maturazione assolutamente E in più non è tanto male Visto che il periodo di carenza è di 3 giorni Non è il top Però è già meglio di 20 giorni Di prodotti sistemici Oltre all'utilizzo del rame Vado a utilizzare anche un prodotto adesivante Per la pianta Che nel mio caso è la lecitina di soia La lecitina di soia per esempio Oltre ad avere questo effetto adesivante Ha anche la capacità di creare Una sorta di pellicola al di sopra della pianta Andando a fermare Interrompere momentaneamente Allo sviluppo della peronospora In più trattenendoli il rame fermo Sopra alla foglia Nel luogo dove si sta sviluppando la malattia Probabilmente lentamente il rame Andrà ad agire come appunto Antifungino sulla nostra pianta Vi dico che Comunque non sto abbandonando l'equiseto Perché lo sto comunque ancora utilizzando Soprattutto su peperoni e melanzane Che stanno abbastanza meglio Molto meglio Presentano un pochino di ticchiolatura Soprattutto le melanzane Ma lo vado comunque ad utilizzare Probabilmente lo ricontinuerò ad utilizzare Anche sui pomodori E sicuramente andrò a ridurre Man mano che vanno maturando I miei pomodori L'utilizzo del rame E reintegrare di nuovo l'equiseto È tutta una cosa un po' complicata Secondo me bisogna anche trovare Una sorta di compromessi Tanti compromessi nella gestione Accettare il fatto che probabilmente Buona parte del lavoro che si è fatto qua Andrà perso E che quindi bisogna prevenire Già pensare a quel momento Nel quale mi verrà in mente Che dovevo piantare altri pomodori E quindi piantarli adesso Per trovarmi avvantaggiato in futuro Ci tengo a specificare anche un'altra cosa Che forse ho tralasciato nel video E non è passata da quelle mie parole Ma uno dei problemi è stato sicuramente Anche una mia leggerezza Nel voler piantare tante piante Nello stesso posto E creare un sesto di impianto Un po' troppo fitto E questo sicuramente Non ha aiutato Perché piante troppo vicine Creano una sorta di ristagno di aria Tra di loro Questa poca ventilazione Che si crea tra i palchi di foglie Tende a far creare Molte più malattie Io purtroppo mi sono trovato Un po' in una situazione Nella quale dovevo Necessariamente piantare E quindi avevo da utilizzare Quello spazio E far entrare Quel numero di piante In quello spazio Un po' Ho forse esagerato nel numero Un pochino Forse Boh L'ho presa con leggerezza Pensavo di fare meglio Di riuscire potando A mantenere delle piante più piccole In realtà No Perché se crescono bene E c'è un sesto di impianto Troppo stretto Questo problema Si presenterà sempre Ogni volta Quindi Cercate di mettere le piante Belle larghe E far circolare Un bel po' di aria Vedrete che i problemi Diminuiranno di gran lunga Poi comunque Anche questa cosa È una dei tanti mattoncini Da mettere insieme Per far sì che Non si creino Problemi Abbastanza gravi Come questi D'altronde Sbagliando Si impara Ciao belli